me l'hai fatto prima, ricordo i tuoi sacrifici lì della service allora, bene, così anche la tecnica polarità vuol dire che io non devo escludere a priori una trattativa col mio compaesano di Pietro e Colpino, lo so che sono generali senza esempio li conosco uno per uno, ma veramente, mi segui però mi serve anche, capisci? io quello che do per certo, per quanto mi riguarda, sto parlando della linea politica del sud fino a proprio, se no mi dovete cacciare immediatamente, questo non si discute con Berlusconi no, pure la sinistra, io la schifo attenzione a quello che ho detto, alcune ho detto altre non ho detto, quindi per la discussione da fare perché siamo troppo intelligenti voglio anche qualche azzardo più acuto, vediamo, discutiamo ognuno di noi lo deve presentare, perché, per come, i vandaggi mi seguono, rispetto alle politiche, agli accordi, alle cose ma questo è il punto, dopo di che i pezzi o divisi uniti si trattano o il segretario della segreteria o mi seguono, mi seguono, si tratta riservatamente perché non è che io vado a dare la sigla e magari piglio anche solo 600.000 voti gratis ma questo è pazzo, non so se è chiaro mi devono servire quello che mi mettono a fuoco il Parlamento per l'agricoltura per i fasi, non lo so, le cose che scegliamo insieme per promuovere, no, la cosa che tu da eroe stai facendo e altri, qui richiamate, varie cose, anche dai giovani amici che sono poi gli eroi essenziali di questa avventura, in questo pezzo della vita dopodiché, noi dobbiamo fare magari nel primo poverino perché dobbiamo organizzare, nella prima giornata se ci dobbiamo, vogliamo chiamarle tutti gli interlocutori io, conosci per esempio i miei amici, li chiamiamo perché tu dici, allora chiamiamo gli spezzoni autonomisti, più o meno veri allora, MPA Polibortone di quelli che vogliono partecipare hanno dignità aspetta, no, ma quando parliamo di politica, questi attuali o nessuno, o un pezzo, o tutti